Allora noi partiamo sabato pomeriggio con Mars SF Junior e qui invito anche i bambini che vogliono partecipare ad iscriversi anche se al giorno d'oggi abbiamo già un buon numero. Nel stesso pomeriggio, sempre sul Viale delle Palme, è un laboratorio per i bambini e Scatena Team, che è in pratica una mini ginkana con mini bike per i bambini. La domenica, la sfilata di Carri, con dei gruppi di trampolieri tipo il Teatro del Rammino di Ascoli, Banda Ross, gruppo musicale di Udine. In più, all'interno dell'ex centro giovani funzioneranno delle giostre per i bambini. Proseguiamo fino a venerdì, venerdì con l'Arco Rida, con la partecipazione straordinaria di Marco Dallanoce, il famoso Schotsmaker di Zelig. Il sabato, il galà, dove verrà ricordato la prima riunione del Comitato Carnevale nel 20 febbraio 1876, con la partecipazione di Archimoderni Veneti e il gruppo Arco 800. La domenica 15 terminiamo sempre con la sfilata di Carri allegorici, con tutti i gruppi musicali, trampolieri e così via.